Allora, abbiamo usato il pollo, salsa di soia, aceto, olio da cucina, aglio, pepe nero e alloro. La mobilità per la cottura di questo piatto va rosolata all'olio e aglio e poi si mette dentro il pollo e mette dentro anche la salsa di soia e aceto e la fa andare a poco basso finché si cuoce la carne. E' facilissimo questo tipo di piatto e questo si mangia accompagnato con il riso, che è il nostro piatto principale. Si mangia solo così, con il riso accompagnato con il pollo e dopo è fatto con il pollo. Questo non è stato fatto io, ma è stato un signore che vi presento adesso, il signor Alex Tifa. Grazie, grazie, grazie mille.